Salve a tutti ragazzi, qui c'è anche Iparla, benvenuti in questo nuovissimo video In molti me l'avevano chiesto, ho fatto la domanda della mia pagina facebook e mi è stato detto di no Ma io, ma io, ma io Ho sentito di più a quelli che erano su youtube perché veramente in molti mi hanno detto di continuare a fare questo genere di video Di, come dire, continuare a portare qualcosa, anche nei messaggi privati mi è stato detto Quindi, sempre grazie al mio cugino ragazzi, questo ragazzo lo dovete, ragazzi questo ragazzo, giusto Lo dovete benedire, lo dovete, non lo so cosa Oggi vi porto un'altra open di calciatore Adrenalin XL Cosa vi porto, cosa vi porto Zan 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 Questo coso gigante Il mega starter pack ragazzi Adesso vi faccio un po' vedere meglio E in più, in più, in più Vi porto, vabbè Era in uno scatolo enorme Quella, ah vabbè, ora vi racconto Me l'ho dovuto separare per darmi anche questa Perché, perché era un coso enorme di cartone Questo è la guida ufficiale, penso Guida ufficiale, esatto Ci hanno fatto Romero Muro Ok, ok E in più, in più, in più Vi porto ben cinque bustine Yeah ragazzi, cinque Stavolta me ne ha date ben tre Di quelle con Miccoli E in queste, nelle bustie con Miccoli troviamo Girardino, Cavani, questo dovrebbe essere Guarin Miccoli e questo che non ricordo del Siena Poi ci dà, ci dà, ci dà Una con Balotelli, quello sì E qua c'è Pier Non ci ha dato l'altra Allora, queste le aprirò nella seconda parte Per questa prima parte Aprirò il mega starter pack E vi farò vedere questa la guida ufficiale Ah ragazzi, vi sto dicendo Perché grazie a mio cugino In pratica, vi ricordate il Balotelli? Mi ha offerto 15 euro per Balotelli Cosa importantissima E quindi, praticamente, questo è costato intorno ai 15 Questo 8,90 Questo 7,50 Perché il mega starter pack è 8,90 Una bustina è 1,50 Fatevi un po' i conti Vabbè, in pratica avrò speso 1 euro di tasca mia Sì, più o meno Ragazzi, una cosa su Balotelli In molti me l'hanno chiesto Allora, se voi lo volete proprio E siete disposti a fare una contro offerta a mio cugino Prego, offrite più di 15 euro Può essere che è vostro Poi non sono mio cugino Devo sentirlo pure Quindi queste 5 per ora Leviamole dal mezzo Io direi prima di aprire il Come si chiama? Mega starter pack Come possiamo leggere? Mega starter pack Contiene Raccoglitore Campo da gioco Regole di gioco Checklist 4 bustine Più una limited edition card Proprio così, ragazzi Qua possiamo vedere Sì, aspettate Ah Vi faccio vedere dall'alto L'inquadratore dall'alto Libro di chimica Il regalo una card in edizione limitata Che trovi solo qui In pratica sono il trofeo della Supercoppa Coppa Italia E Scudetto Cioè, il campionato italiano Se ne può trovare soltanto una però Cioè, in pratica Ah, guardate Ancora ci vedo Che resti un po' del cartone Allora, abbiamo Cavani Ledesma Balotelli Pirlo Quarin Stavo dicendo De rosso Ah, dietro Ecco, ecco, ecco Poi intanto Vedete il pezzo di cartone L'olio Allora, vediamo No Complicatissimo Sto co Veramente mega Io ve lo consiglio di prendere Perché ci sono 4 bustine La limited edition E tutto quello per cominciare A giocare meglio a collezionare Ah, una cosa importante ragazzi Io non penso di collezionarle Cioè, in che senso? Non faccio come i Pokémon Che li colleziono proprio Ci gioco Questi li prendo Se trovo delle belle carte Ve le vendo Esatto Allora Oppure le vende al mio cugino Insomma Se vi serve Ehm Che c'è scritto qua Vuoi personalizzare il tuo raccoglitorio? Vabbè, ci fa vedere Che troviamo il raccoglitore La checklist Poi le 4 bustine E questa è la limited edition Nel mega starter pack Trovi una card trofeo Limited edition Bellissimo Entra nel pianeta adrenalin Sì, vabbè Eh, apriamo dai Che voglio di aprire Qualcosa di gigante Era a metà petta Che quella scema Ah, vi stavo dicendo In pratica per comprare questo E comprare le 5 bustine Ci sono stato 3 ore Ragazzi 3 ore No, 3 ore no Ma 15 minuti sì 15 minuti pieni pieni Sul serio Perché non li trovavo Addirittura io li ho dovuti trovare io Ragazzi Quindi immaginate Immaginate Oh, oh Vediamo che carta limited edition Troviamo Uh, la coppa Italia Bella Che qua è un po' Peccato Vabbè Il motivo è perché Ehm Cioè Essendo appunto in questo pack Poi quella scema Me l'ha schiacciato tutto Comunque è molto bella Sta limited edition Brilla Uh, un casino Comunque dove sono le 4 bustine? Eccola C'è un micro Dovrebbe esserci E appunto Una per ogni artwork Questo lo leviamo Allora Queste 4 bustine Si uniscono a quelle 5 Così nel prossimo video Aprirò ben 9 bustine Eccola qui Mi raccomando Lasciate un bel pollicione Se volete ancora Apertura Ehm Sì Limited edition Adore Qua ovviamente Non c'è una zona del campo Perché non è un giocatore Bello Molto bello Ok Questa è una Limited edition Di limited edition Se non sbaglio Ce ne sono ben 7 Allora Questo è il raccoglitore No Questa è la game board La tavola del gioco Ah E si mette qua Al posto Con il raccoglitore Sì Proprio così E ci sono le regole del gioco E' enorme stucoso Non ve lo posso fare vedere bene Ehm Vabbè Qua potete vedere un po' Eccolo Vedete un po' Regole del gioco Ah Qua in fondo C'è la checklist Molto grande Qua ci sono le new generation E compagnia bella Poi in caso Me le metto Oh Ok Allora La metto così Oh Guardate che cosa magnifica Molto grande però Non so dove metterla Oddio E Qua c'è la guida ufficiale Che adesso andiamo a sfogliare Poi Appena terminiamo Opriamo le bustine In un video separato Allora Video ufficiale Gioco di cards Mmm Mmm Scrive le cards speciale Vabbè Collezione tutte le cards Ah Che bello Indice Regole del gioco Qua perché fa vedere 9, 10, 20, 26 Ah Qua fa vedere un po' le carte I campioni Indice 2, 3 L'indice Vabbè Qua boom Non so Ah Pagina 21 Tipo c'è il palermo A 22 Uh palermo Ok Qua ci spiega un po' Vabbè ragazzi Se lo volete vedere per intero Vole andate a contare Cioè Non c'è motivo Ecco Vabbè Queste sono le regole Morganella Povero E' morto Morganella Vincetone No Vabbè Sempre giocare è facile Oh Adesso Qui 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 Card base Ah Miccoli Qua ci spiega la guida Dalla collezione Idolo New generation Campione Muro Oh Queste le fuoriclasse Sono tra le più rare Sì Fuoriclasse Devi essere fortunato Ma siccome la fortuna Aiuta gli odaci Aprendo una delle bustine Calciatore Potrai trovare Una delle Se hai queste carte Nel tuo mazzo Per il Per il tuo versare Sarà dura sconfiggerti Immagino 104 di attacco Mentre gli intramontabili Queste 6 6 ultra trentenni Sono come il buon vino Invecchiano Migliora Invecchiando Migliora Oggi non so leggere Cercai di trovare queste carte Se intramontate Ti scoprirai Esperto e maturo Per gestire Non sono tanto forti Forse non è umbrosino Vabbè Ci spiega Le carte speciali Queste le fuoriclasse Sono tra le più rare Se non sbaglio Fatemi vedere Sì 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 Ne esistono Soltanto 900 Cards Invece degli intramontabili 1200 Se non vedete più rare Trovarne una Veramente qualcosa di bellissimo E poi pallone ufficiali Poi Per ogni squadra Ci fa vedere Ci spiega un po' Cioè ci fa vedere Tipo occhio Ah Cards speciali Top difesa Top attacco Insomma Per chi gioca È molto utile Ci fa vedere Le idol Cagliari Catania Chiavo Verona Fiorentina Ah e qua ci dà tipo Dei titoletti Grifone in volo Entusiasmo sulle rive dell'Arco Ah vi voglio anche dire Che sono stato molto fortunato A trovare questo Mega starter pack Perché era l'ultimo Juventus Inter Lazio Milan Napoli Palermo Cosa c'è scritto Atterraggio sull'Isa Presidente Zampanino Rivolto con un calzino La squadra Per tentare Salversi dal pessimo Inizio del stagione Da tanti acquisiti Speriamo Intanto Illiciclone Per tutti gli amici interisti Illiciclone 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 Ok Eccolo qui Non l'avevo visto Illiciclone 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 Anche per gli amici Illiciclone 94 94 94 Illiciclone Illiciclone Top attacco Miccoli 75 punti Uh bello Barreto Idolo 86 di piazza Non male Non male C'abbiamo in Napoli Un Napoli Il cinema Parma Pescara Sorpresa Roma C'è Balzaretti Ci dovrebbe essere Lo devo trovare per forza Lo devo regalare a mia sorella Torino Uh ecco Qua ci spiegare Limited Edition Questi si possono trovare In Mega Starter Park E questi Guardate la cavolata Che hanno fatto Queste due carte Si possono trovare Solo a Milano Queste due solo a Torino Io che sono per esempio A Palermo Non le posso avere Cioè Ecco Come vedete Torino Milano Cioè Ma Bah Che senso ha Che senso ha Ah Carsi mancanti Si possono ordinare Ah le campioni Massima quantità 2 1 R50 Alla faccia Alciatori Mag Regalo Il primo set Aggiornamenti Bayer Dortmund Schalke Che schialti Ah qua ci abbiamo Pura c'è Questa Ok ragazzi Finisce così Questo video Bellissima La Limited Edition Ma Restate sintonizzati Che al prossimo C'è qualcosa di veramente spettacolare Come nove bustine Calciatori E da Nelizelle Mi raccomando Mi piace Iscrivetevi Alla prossima Deciamcio A tutti i ragazzi E da Nelizelle E da Nelizelle